Non finiscono e non si fermano le ricerche andate avanti per il settimo giorno per ritrovare Christian Casian Molnar, il 25enne romeno travolto dalla piena del Natisone assieme alle amiche Patrizia e Bianca, le cui salme hanno fatto rientro in Romania. La speranza è riposta nel meteo, le condizioni stanno progressivamente migliorando, il livello del torrente sta diventando molto basso e aumentano le possibilità di avvistare il corpo. Tanto basso da ritrovare alcuni indumenti riaffiorati ieri e due giorni fa che però si è scoperto dopo un'attenta analisi non appartenere al giovane. Si trattava invece di oggetti trascinati dalla semipiene e riemersi proprio perché l'acqua in alcuni punti è talmente bassa da rendere anche difficoltosa la navigazione dei mezzi di soccorso. Le acque del fiume Natisone sono quindi in forte calo, l'ondata si è quasi esaurita. Questa situazione ha permesso la possibilità di poter effettuare anche degli scavi all'interno dell'alveo con una potente pala meccanica dei vigili del fuoco tra Orsaria e Oles di Manzano nella speranza di ritrovare appunto il corpo di Cristian. Si smuovono davvero grandi quantità di ghiaie e detriti portati a valli dalla furia del corso d'acqua che venerdì poco prima delle 14 ha travolto i tre ragazzi nei pressi del ponte romano a Premariacco. Le operazioni procedono nella massima sicurezza al momento però di Cristian, nessuna traccia. Lo scandagliamento di Fondalia Argini, qualora non dovesse essere trovato prima il corpo o addirittura si spera Cristian vivo, proseguirà certamente fino a domenica. Imponente la squadra di lavoro all'opera con 80 persone tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, oltre a tutte le associazioni locali di supporto.